Oh, inizia il telegiornale! Papà! 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 Ti ho sentito cosa c'è, George! Per favore, gioca con me, papà! Facciamo un gioco! Oh no, George! Sto guardando il telegiornale! Gioca con la mamma! 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 Sì, tesoro? Per favore, gioca con me! Oh, George! Mi piacerebbe giocare con te, ma devo cucinare! Oh, è quasi ora di mangiare, tesoro! Puoi giocare con Peppa, tesoro! Oh, la mamma non gioca! Peppa! Peppa! Quale dovrei iniziare? Peppa! Peppa! Facciamo un gioco! No, George! Devo leggere un libro ogni giorno per almeno mezz'ora! Oh, cosa posso leggere? Nessuno vuole giocare con me! Dobbiamo mettere in guardia i nostri cittadini contro il fronte freddo dei Balcani! Presto le temperature scenderanno! Giorgio, cosa stai facendo? Sto giocando! Oh, mi impedisci di guardare il telegiornale! Non giocare qui, per favore! Va bene! Oh, ma con chi sto parlando? Oh, va bene, va bene! Oh! Sono annoiatissimo! Oh! Ehi! Posso arrampicarmi qui! Oh! 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 Ma cosa fa? Manca poco! Avanti! Oh! 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 Sono così in alto! Papà, guarda dove sono! Papà, guarda! Oh! Oh! Cosa sta succedendo? Guarda dove sono! Cosa? Sono diventato un arrampicatore! Scendi, George! Hop! 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 Guarda, papà, come salto! Oh! Oh! La mia gamba! La mia testa! Cos'è stato quel rumore? Oh! Oh! Oh no! Ambulanza! Da questa parte, per favore! Ok, non preoccuparti, tesoro, andrà tutto bene! Staranno bene! Sì, vediamo dove sono i nostri pazienti! Ci sono tanti pazienti qui! Cos'è successo? Te lo spiego! Mio fratello è caduto dall'alto sulla testa di mio papà e mia mamma è svenuta! Capito, so cosa fare! Ti senti meglio ora? Sì, grazie! Ottimo! Vi portiamo in ospedale! Oh, la mia gamba! Non vi preoccupate, andiamo adesso! Staranno bene, mamma! Oh, lo spero! Oh, la mia testa! Dov'è il telecomando? Eccolo, papà! Oh, grazie, Peppa! Ah, ho tantasete! Ecco la tua acqua, George! Oh, mi sento strana! Sto per svenire di nuovo! Ecco il misuratore di pressione, mamma! Controlliamo! Controlliamo! Oh, è normale! Beh, ok! Peppa, acqua al limone, per favore! Ok, mamma! Peppa! Cosa c'è, George? Portami qualcosa da mangiare! Va bene! Ehi! Sì, papà! Sì, papà! Te, per favore! Va bene! Uffa! Cosa che non va?